Un mese ho fatto un esperimento con i miei donni, l'ho legato e abbiamo fatto session a colazione, pranzo e cena, tutti i giorni a colazione, pranzo e cena, poi abbiamo fatto l'inversione dei ruoli, lì va tutta legata ed è sparito. Ma dove è andato? La maniara! Ah non intriga molto anche il feticismo, solo che ultimamente mi ha letto un po' strano, prima mi leccava i piedi e basta, adesso prima di leccarli me li condisce con l'olio. E te credo che stai nei funghi! Ma come ti permetti schiavo, non ti rivellare! Grazie!